I tuoi progetti, in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Quali previsioni per la ripresa dell'economia in Italia e nei nostri territori? La velocità della ripresa sarà direttamente proporzionale alla capacità dell'Italia di uscire dall'emergenza sanitaria. Stati come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Israele e anche la Cina sono l'esempio lampante di questa strada. Guardando gli ultimi dati contenuti nel rapporto 2020 di Fondazione Nord-Est, dedicato proprio alla ripartenza, hanno messo in luce che il mercato mondiale è diminuito dell'oltre 10% nell'anno 2020. Tutto ciò ha impattato con le esportazioni italiane di oltre il 16% e le spese maggiori le hanno fatte le aziende a forte vocazione di esportazione, come le aziende del nostro territorio, che hanno avuto un calo di oltre il 66% delle esportazioni. È chiaro che l'evoluzione mette in luce una possibilità di ritornare ai livelli pre-crisi dal corso di questo 2021. Ciò nonostante i nostri imprenditori, per oltre il 70%, immaginano che questo recupero di crisi avverrà solo nel 2022, senza togliere però che il mercato legato agli alberghi e al turismo avrà una riprocussione che durerà molto di più. Ci sono dei settori economici che sosterrete con più determinazione o che hanno necessità di misure specifiche? In questi mesi la nostra banca ha dimostrato con i fatti di sapere essere vicina alle imprese e alle famiglie colpite dall'emergenza sanitaria. Tutti insieme abbiamo saputo fare squadra e ci siamo focalizzati sulla necessità di agire con velocità e concretezza, creando vere e proprie opportunità accessibili con percorsi semplificati e finalizzati soprattutto a salvaguardare il tessuto imprenditoriale, sociale e locale, affinché tutti possano avere un futuro nel mondo post-Covid. In poco più di un anno abbiamo concesso quasi 530 milioni di euro in misure agevolative legate all'emergenza, di cui 378 milioni legate a moratorie e 151 milioni per la nuova finanza erogata. Un dato importante poi riguarda anche le moratorie e quindi le sospensioni di mutui alle famiglie e imprese. Circa l'80% riguardano richieste pervenute e accordate a attività manifatturiere, società di costruzione e immobiliari e operatori del settore del commercio. Dal punto di vista operativo ci siamo invece impegnati a dare avvio con tempestività a misure previste dai decreti Cura Italia e Liquidità e altri interventi promossi in autonomia oppure insieme al nostro gruppo bancario cooperativo Icrea. Ed è su questa strada che noi vogliamo proseguire nel corso del 2021. Ancora più, da banca del territorio quale siamo, ci siamo impegnati per siglare numerosi protocolli d'intesa promossi dalle amministrazioni locali con l'obiettivo di erogare ossigeno e sostegno economico soprattutto ai piccoli operatori economici, che più di altri hanno subito effetti recessivi dalla situazione emergenziale. Tra questi ricordiamo recentemente l'accordo siglato con i comuni di Portoguaro e di Cavallino Treporti per assicurare insieme a Confidi e alle associazioni di categoria particolari condizioni e garanzie di accesso al credito per le imprese del nostro territorio. Un altro capitolo importante riguarda il super bonus per l'edilizia. Ci siamo già attivati stipulando diverse convenzioni operative con i partner locali di categoria come Confartigianato e primari operatori locali e stiamo con essi affiancando tutti i nostri clienti supportandoli con...